Ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRMH24. In apertura la politica, durissimo attacco da parte del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che è impegnato nella firma del protocollo tra la Giunta regionale e i sindacati per l'individuazione e l'attivazione di interventi a supporto dei settori welfare e sanità, ha tuonato contro il Governo centrale colpevole a suo dire di aver lesinato sulle spese a sostegno proprio della sanità e servizio. Nonostante le esperienze della pandemia, il Governo centrale appena l'emergenza è finita ha ricominciato a lesinare sull'aumento dei costi in sanità. Così Michele Emiliano, che in occasione della firma del protocollo tra Giunta regionale e sindacati sui temi del welfare e della sanità, tuona contro il Governo di Giorgia Meloni colpevole a suo dire di aver limitato il rimborso delle spese Covid e di aver risparmiato sull'aumento dei costi energetici, sulle nuove assunzioni, sul pagamento degli straordinari al personale per il recupero delle liste di attesa. Il tutto sulla base di un aumento del Fondo Nazionale, che quest'anno è stato solo di 2 miliardi di euro, quello minimo per non andare totalmente in default. Chi parla di taglia della sanità dice stupidaggini. Qui ci sono tutti gli altri settori dell'amministrazione che stanno facendo sacrifici per mantenere inalterato il funzionamento sanitario. Quindi abbiamo utilizzato tutti gli avanzi vincolati, cosa che il Governo ci ha concesso di fare, perché dal punto di vista contabile non era possibile farlo, perché non avendo soldi da darci, perché questa è la condizione in cui il Governo italiano, ci ha consentito di utilizzare queste somme che contabilmente invece avremmo dovuto tenere nei settori di competenze. E dunque, secondo lo sfogo del Presidente Emiliano, grazie al recupero di queste somme, la Puglia ha fatto il possibile per rispondere alle esigenze sul fronte della sanità regionale. Nella situazione in cui il Governo si trova non è in condizione di sostenere il diritto alla salute di tutti gli italiani. E' una cosa che va bene agli italiani, perché se va bene risparmiare sulla sanità e gli italiani sono contenti, che dobbiamo fare? Ci dovremmo adeguare, perché questo è il principio di sovranità. Se viceversa gli italiani sono contrari, è necessario che in tutti i luoghi dove gli italiani si possano esprimere, e il sindacato è uno di questi, facciano presente il loro dissenso. Cioè chiedano ciò che sembrava scontato il giorno dopo la fine della pandemia o comunque la fine dell'emergenza. E cioè che avrebbero cambiato registro sugli investimenti in sanità. Le parole del Presidente della Regione Emiliano sono state pronunciate in occasione della firma del protocollo tra Regione e sindacati proprio sul tema del sostegno al welfare e alla sanità. Ascoltiamo. Attivare un tavolo con l'assessorato alla sanità per individuare interventi finanziari, economici ed innovazione organizzativa mirati a realizzare investimenti nelle eccellenze sanitarie, nelle risorse umane, nell'innovazione tecnologica e infrastrutturale, nei modelli dell'organizzazione sanitaria territoriale sia qualitativa che quantitativa dell'offerta sanitaria intraterritoriale e intraregionale. Questo lo scopo dell'accordo sottoscritto dalla Giunta regionale pugliese e dai sindacati CGL, CISL e UIL in materia sanitaria e di welfare. Un tavolo finalizzato anche all'attivazione di tavoli aziendali con i direttori generali per monitorare il rafforzamento della sanità territoriale attraverso i servizi forniti dai PTA, dagli ospedali di comunità e dalle case di comunità, svolgendo un'azione di verifica dell'attuazione del PNRR del relativo personale da destinare alle nuove strutture. Con l'accordo firmato si dovrà anche avviare quanto prima, congiuntamente all'assessorato al welfare, il tavolo di concertazione e contrattazione sociale per la più efficace predisposizione degli atti di programmazione regionale e al loro pieno coordinamento con gli altri atti di programmazione per l'adozione del piano regionale della non autosufficienza e invecchiamento attivo. Con il Cigero e il Ciservuil abbiamo messo in piedi una mobilitazione per il mezzogiorno che tiene al centro proprio il tema della salute e della sanità per il 20 di maggio. Proveremo anche con i direttori generali sui territori a strutturare attraverso questo protocollo dei momenti di confronto definiti, precisi, nelle modalità e nei tempi. Siamo contanti di questo nuovo accordo che vede insieme nel solco della responsabilità e della visione con i sindacati, in questo caso abbiamo poi anche tutta la parte territoriale della sanità pugliese, quindi le house piuttosto che i direttori generali dei policlinici, per poter dare una visione di integrata sociale e sanitaria, per poter appunto migliorare la vita dei pugliesi insieme, con lo stesso obiettivo e con la stessa responsabilità. Ci spostiamo a Matera, dove ieri è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale, tra le discussioni quella politica sull'azzeramento della Giunta. Non sopporto chi sfrutta la massima assise cittadina per mandare segnali politici, non si devono anteporre le velletà partitiche personali al bene comune, così il sindaco di Matera Domenico Bennardi nel Consiglio Comunale del 2 di maggio, motivando la decisione di azzerare la Giunta, allorché il 28 di aprile Campo Democratico, dalla maggioranza, faceva mancare il numero legale. Pronta la risposta di Michele Paterino da Campo Democratico, non c'è nulla che attiene a interessi del gruppo e personali, la nostra azione non ammette in discussione la maggioranza negli obiettivi. Abbiamo ritenuto opportuno però segnalare la necessità di una verifica politico-programmatica a metà mandato e i rapporti tra i gruppi di maggioranza. La scelta di azzerare la Giunta Comunale, ha aggiunto Paterino, è stata forte e inattesa, ma sono facoltà del sindaco. Invece è apprezzabile il fine, dice, fare chiarezza nella maggioranza e rilanciare l'azione che fino a questo momento non sempre risultata in linea con le aspettative dei cittadini. Poi, sull'imminente rinnovo del Presidente del Consiglio, riteniamo che le questioni della scelta del candidato non debbano essere decise soltanto dalla maggioranza relativa, ma anche dalla minoranza. E l'ennesima prova di forza tra gruppi, ribatte dall'opposizione Pasquale Doria di Matera Civica, questo è il male oscuro. La caccia al posizionamento è costante, sia in vista delle regionali che delle scadenze naturali, come quella del Presidente del Consiglio Comunale. Tutti ci si aspettava che questo ruolo sarebbe stato ricoperto dalla consigliera Maria Cristina Visaggi. Io, stigmatizza, non mi sarei piegato alla diktacto, fate così o andate a casa. Si sta gestendo il potere in vista delle prossime regionali, aggiunge dalla minoranza Giovanni Schiuma. Se davvero volete centrare obiettivi importanti, come quelli della PNRR, dateci un'aggiunta di professionisti, di tecnici. Avete usato tutti per arrivare al potere, sottolinea Cinzia Scarciolla. Invito il sindaco a non escludere di andare a votare nuovamente e poi, rivolgendosi a campo democratico, dice vi ha già scaricati. Se siete stati così bravi da raggiungere risultati inimmaginabili, come dite evidenze Nicola Casino di Forza Italia, perché non riconfermate gli stessi assessori? Solidarietà, dice la Visaggi, le era stato promesso e adesso le viene negata la Presidenza del Consiglio. Ritorna sulla necessità di un'aggiunta di professionisti, la Violetto, più diretta Marina Susi. L'ultimo ricatto è stato palesato da Campo Democratico per attirarsi fuori da questo impasse sindaco, dice la Susi, rispetti almeno uno dei patti che ha fatto con i suoi uomini e in parte con il Consiglio sul tema del Presidente del Consiglio e poi costituisca un'aggiunta di tecnici. Qualcuno, dice il capogruppo pentastelato Salvatore, mi deve spiegare come si possa definire la prima difficoltà della maggioranza, guerra tra bande, parole che arrivano, dice, proprio da chi si è mangiato la città in questi anni. Da qui a qualche ora, conclude Salvatore, avremo la nuova aggiunta a Bennardi. Sempre ieri nel Consiglio Comunale di Matera è stato approvato a maggioranza il bilancio consuntivo 2022 che fa registrare un aumento del fondo cassa di 10 milioni rispetto all'anno precedente, approvati anche i regolamenti su IMU e Tari. Sul fronte finanziario il risultato di amministrazione complessivo è pari a circa 53,5 milioni. Le spese correnti impegnate ammontano circa 55 milioni su una disponibilità complessiva di circa 72, quindi il 76,3% di quanto stanziato è stato speso con un aumento della capacità di spesa pari al 4% sul 2021. 11 milioni sono le maggiori entrate con un aumento della percentuale di riscossione che passa dal 77% del 2021 all'82% nel 2022. Cresce anche la capacità di spesa generale intesa come rapporto tra somme impegnate e quelle stanziate. I debiti fuori bilancio ammontano a circa 184 mila euro, somma inferiore rispetto al 2021 durante il quale furono riconosciuti circa 3,5 milioni. La lotta all'evasione ha portato a accertare debiti per un milione. Questi elementi hanno consentito di liberare nel bilancio di previsione 500 mila euro dal fondo di garanzia debiti commerciali che potranno essere utilizzati per la spesa corrente. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Presunte torture avvenute nel carcere di Bari e i danni di un detenuto affetto da patologie psichiatriche. In 12 sono stati rinviati a processo. 12 tra agenti di polizia penitenziaria e infermieri in servizio nel carcere di Bari sono stati rinviati a giudizio perché avrebbero torturato, secondo l'accusa, un detenuto con patologie psichiatriche. I fatti risalirebbero al 27 aprile del 2022. Il processo inizierà il prossimo 21 giugno nel tribunale di Bari. La GUP Rossana De Cristofaro ha ammesso al processo corrito abbreviato tre imputati che ne avevano fatto richiesta. Il sovrintendente di polizia penitenziaria Domenico Coppi, l'agente Roberto Macchia e il medico Gianluca Palumbo. Secondo l'accusa, sei agenti della polizia penitenziaria avrebbero torturato un detenuto di 41 anni dopo che questi aveva dato fuoco a un materasso nella sua cella. Le violenze sarebbero iniziate lungo il percorso dalla cella all'infermeria. Codil personale, che si legge negli atti giudiziari, sarebbe intervenuto con violenze gravi e agendo con crudeltà, prima scaraventando il 41enne sul pavimento, poi colpendolo con calci e schiaffi sulla schiena, sul torace, sui fianchi e sul volto, sottoponendolo per circa quattro minuti a un trattamento inumano e degradante. Uno degli agenti, per tenere fermo il detenuto, lo avrebbe bloccato mettendosi di peso sui suoi piedi. In totale sono 11 gli agenti coinvolti, tre sono finiti ai domiciliari e sei sono stati sospesi fino a 12 mesi nel novembre del 2022. Ai poliziotti non accusati di tortura, la procura contesta di non aver fermato e di non aver denunciato le violenze. Pure gli infermieri saranno processati, però messa a denuncia, mentre il medico, che ha scelto l'abbreviato, è accusato anche di falso in atto pubblico per non aver refertato le ferite riportate dal detenuto. Cambiamo ancora argomento verso San Nicola. Il corteo storico del santo patrono di Bari raggiunge i vari municipi della città. Prima tappa è stata la parrocchia di Santa Rita nel municipio 4. È ufficialmente cominciato a Bari il conto alla rovescia di avvicinamento e festeggiamenti in onore di San Nicola. Grande attesa per il tradizionale corteo storico che sfilerà per le vie del centro la sera del 7 maggio. Nel frattempo, in questi giorni, i baresi avranno un piccolo assaggio di quello che avverrà il 7 maggio con un prologo del corteo che sta raggiungendo le periferie. La prima tappa è stata la parrocchia di Santa Rita nel municipio 4 a cui hanno partecipato tantissimi bambini. Sono presenti anche i bambini, hanno anche preparato degli slogan, dei messaggi. Uno di questi dice San Nicola ravviva in noi la speranza e credo che proprio sia questo il senso di questi momenti di comunità vissuti insieme. Ravvivare la speranza in un futuro, come ci ricordava ieri il Papa, un futuro fatto di culle e non di tombe. Partito oggi il corteo diffuso dal quartiere di Santa Rita, uno dei più lontani dal centro cittadino ma dal quale l'amministrazione non si distrae come tutti i quartieri periferici dove abbiamo voluto che San Nicola col quadro così prezioso grazie alla direzione artistica di Nicola Valenzano raggiungesse anche i quartieri decentrati. Naturalmente tutto questo rientra nella vocazione culturale dell'assessorato che investe tanto negli eventi più importanti culturali cittadini per abbracciare tutti i quartieri col filo rosso della cultura e del culto nicolaiano. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.